A Roma, zitta zitta, guatta guatta, si è buttata sul gioiellino del Barcellona, Carles Perez, te lo ricordi Neschio Carles Perez? E Neschio se lo ricorda Carles Perez, se lo ricorda, se lo ricorda Carles Perez, che ci fece un pochettino male, ci fece un pochettino male nella partita di ritorno tra Inter e Barcellona che ci sostò la qualificazione, me lo ricordo. È un bel gioiellino, è un bel colpo a sorpresa della Roma che stava lavorando su Politano se vogliamo, ma pare che Politano poi alla fine andrà a Napoli. Ci arriviamo, ma fatemi parlare un po' di lui. Io credo che magari rispetto a Politano questo giocatore sia forse anche meno pronto, di sicuro lo è, perché Politano ha giocato nel campionato italiano, mai lo conosce come le sue tasche, Perez molto più giovane, viene dalla Liga, viene dalla cantera del Barcellona, per cui magari dovrà adattarsi. Però, appunto perché viene dalla cantera, questo secondo me è in vista, in prospettiva futura, secondo me è un prospetto più interessante, giocatore più interessante, già qualche presenza con l'under della nazionale spagnola, viene dalla cantera del Barcellona, e ha giocato qualche partita proprio con la squadra maggiore. Quindi è interessante, è un acquisto interessante, non lo so le cifre, non so nulla, ma sicuramente non sarà neanche un acquisto troppo esoso, sì, stesso osso, perché poi, almeno su Transfer Market lo danno per 10 milioni il valore, credo che la cifra sarà vicina, sarà vicina a quella. Vedremo. Fatto sta davvero che la Roma, secondo me, porta a casa un'ottima ala, un'ottima ala, e mi ricorda un po', come dicevano lo stesso Sky, un po' l'acquisto di Bojan, Bojan Kerkic, sì, che era anche bravino poi quello là, non era neanche male, devo essere sincero. Vediamo, vediamo un po'. Questa per me da interista è comunque una bella notizia, perché comunque Politano, che dicevano oggi, no, vuole solo la Roma, Politano vuole solo la Roma, complica i piani all'Inter, già ne avevano fatto uscire di tutti i colori, invece Politano pare che andrà a Napoli, andrà a Napoli, c'è l'accordo tra le società, prestito di 2 milioni, obbligo degli scatti, prestito di 18 mesi, attenzione, di 18 mesi, un anno e mezzo, di 18 mesi, poi ci scatta l'obbligo a 19 milioni e più 2 di bonus, quindi operazione complessiva di 23 milioni, non 25, 23 milioni, che credo sia una cifra comunque rispettabile, di conseguenza, visto che la Roma è andata altrove, sicuramente Politano per forza di cose dice sì a Napoli, ma la notizia che a me sta più a cuore è che non è legata, questo trasferimento non è legato a Llorente, non è legato a Llorente che rimane a Napoli, perché il Napoli non può prendere Petagna dalla spalla, quindi si tiene Llorente, e sono contentissimo perché l'Inter si fionderà su Giroud, Giroud io lo reputo migliore di Llorente ad oggi, non ditemi perché, ma ragazzi, secondo me Giroud è un passo avanti, per cui questo mi fa veramente felice, poi Ericsson l'abbiamo detto che l'abbiamo preso, per cui adesso è una situazione bellissima, una situazione simpatica, attenzione anche alla Juventus, che comunque pare che voglia scambiare De Sciglio con Kurzawa del Paris, del Paris, Kurzawa, e quindi tanta tanta roba, tanta calma al fuoco, ma va bene così, ragazzi questo è l'aggiornamento che è arrivato poco fa, io lo riporto, e niente a sto punto, iscrivetevi al canale, facciamo una cosa, visto che veramente sto qui insieme a voi, ormai ho annullato la mia vita, ho annullato la mia vita, non vado nemmeno più la sera a, come si dice, a cacciare un po' di, eh, capite un po' al volo, quindi premiatemi, scaricate, no vabbè non vi faccio scaricare nulla, questa volta premiatemi, veramente con un'iscrizione, un grande abbraccio, da Neschio. Grazie. Grazie a tutti.